Grazie a tutti. Ho raccontato l'esperienza che sto facendo con l'Università, dell'applicazione degli algoritmi a tutto quello che è la pratica sportiva, sia dal punto di vista tecnico che tattico. E soprattutto sto cercando di far vedere come il talento si può comunque combinare con la propria passione, anche se poi magari non è quella di saltare più degli altri o avere capacità tecniche migliori di altri, ma magari con un'intuizione matematica o con altre capacità che possono comunque aiutare a una prestazione sportiva. Ha fatto visita a Lardini Filottrano, come vede il destino dell'unica marchigiana in Serie A? Stanno attraversando un periodo difficile perché comunque hanno problemi fisici, hanno cambiato alcune giocatrici, quindi dovranno sicuramente riprendere il filo del gioco per tutti questi motivi. E hanno un buon margine che però non è rassicurante e quindi dovranno gestire al meglio questa fase finale per riuscire a salvarsi. Da Citi come sta vivendo il suo lavoro in questi mesi? Ma in fermento perché stiamo studiando tantissimo e stiamo cercando di vedere la pallavolto sotto altre prospettive per vedere se ci sono degli elementi che magari possono essere migliorati. E mi sto appoggiando all'università anche per questo, per riuscire ad avere spunti nuovi sul mio lavoro. L'influenza di Lorenzetti quanto ha giocato nella sua carriera? Tantissimo, penso che le persone siano determinanti nel percorso di ogni persona e credo che l'empatia che lui mi ha trasferito sia stata contagiosa. E la sua energia me la porto ancora dentro e quando comunque ho modo di sentirlo, di avere il tempo per scambiare due chiacchiere è sempre un momento di arricchimento per me enorme. Cosa deve fare un allenatore, ma più in generale possiamo dire oggi una persona, uno studente per essere vincente? Sfidare se stesso e essere coerente con il proprio essere. L'unico consiglio che mi sento di dare è di non copiare nessuno, cioè non devono diventare qualcuno ma essere se stessi. E credo che questa sia una delle cose che nella mia carriera a volte mi ha condizionato di più e quindi è il primo consiglio che mi sento di dare. Ed ora proseguiamo con le notizie e parliamo di calcio in Serie B. Si giocherà il prossimo 23 marzo alle 18 la partita di Serie B tra Lecce e Ascoli valida per la terza giornata del girone di ritorno che il primo febbraio scorso, lo ricorderete, era stata sospesa dall'arbitro dopo soli 4 secondi dall'inizio in seguito al grave incidente occorso in uno scontro fortuito di gioco al calciatore del Lecce Manuel Scavone le cui condizioni erano apparse subito gravi e preoccupanti. Lo ha deciso la Lega di Serie B, il 32enne centrocampista del Lecce perse i sensi dopo uno scontro con il giocatore Ascolano Giacomo Beretta. La partita peraltro appena cominciata fu subito sospesa, Scavone dopo il ricovero e Lecure è stato dimesso dall'ospedale ma indossa un collare e dovrà sottoporsi anche a un intervento chirurgico. Ed ora restiamo a parlare di calcio ma in Serie C. Giancarlo Malcore, nuovo allenatore della Fermana, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha dichiarato ho saputo che erano anni che mi volevano qui, non è stato difficile per me scelgere di firmare con la Fermana ammetto che se ci fossero anche altre squadre che avevano palesato un interesse nei miei confronti vengo qui col sorriso e con una voglia matta di fare bene. Ho scelto la Fermana perché l'ho guardata diverse volte ed è una vera squadra è un aspetto che si percepisce anche dal di fuori e per niente scontato comune. Sono davvero contentissimo di essere arrivato qui e ora tocca a me ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. E invece per quanto riguarda la Serie D c'è una notizia che riguarda il Matelica. Nel pomeriggio di ieri la squadra del Matelica ha battuto in casa il Pineto nel recupero per la squadra di Tiozio. la vittoria che serve per accorciare da 11 a 8 i punti di distacco dal Cesena che resta comunque saldamente in testa la classifica del girone F di Serie D. Ed ora lo scherma, nove medaglie conquistate, il bottino dei tre ragazzi del club Scherma Ancona che hanno preso parte nello scorso fine settimana ai giochi del Mediterraneo. Siamo tornati a casa con tanti successi ed è la prima volta che il club Scherma Ancona ottiene questi risultati a una competizione così importante. Siamo tutti felicissimi, tutto il club, il presidente e tutti i maestri che sono riusciti ad ottenere questi risultati in questi ragazzi. Nel mio caso io ero il maestro della nazionale convocato quindi a maggior ragione sono stato doppiamente contento e soddisfatto perché oltre ad aver portato tanti ori, tanti successi con l'Italia avevo tre atleti di Ancona, quindi proprio miei, che sono riusciti ad ottenere questi bei risultati. Tutti e tre hanno portato a casa almeno una medaglia al col. Esatto, in realtà abbiamo portato quattro medaglie d'oro, due medaglie d'argento e due di bronzo perché abbiamo vinto l'oro con Ryan Adul nell'Under 17, Alice Gambitta nell'Under 17 e Under 20 e la squadra di Fioretto, la squadra maschile con Ryan Adul. Poi abbiamo vinto con Benedetta Pantanetti, Argento nell'Under 17, Argento nell'Under 20 e bronzo nella squadra insieme ad Alice Gambitta, quindi un successone. Siamo molto contento, soddisfatto. Certo, prendere un altro oro non è che vi dispiaceva, però non ce l'ho fatta, ero tanto stanco dalla gara di ieri fisicamente, infatti dal 3 a 1 sono andato sopra 4-3 e poi non ce la facevo fisicamente. Lui ha sfruttato quel momento, è stato più bravo, una vittoria meritata, giusto. È stata una gara molto emozionante, anche perché prima non me l'aspettavo, secondo il girone comunque non era andato magnificamente dato che avevo anche fatto una sconfitta, però tutto sommato ho saputo riprendere la situazione ed è finita come è finita. Anche in allenamento è sempre molto tirato l'assalto, però è andata così. Sono comunque contenta e sì, sono contenta. Ed ora parliamo di volley a due maschile. Pasquale Bosco non è più l'allenatore della Mengi Shoes Macerata. Il tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo la sconfitta di Lago Negro, dove i maceratesi hanno perso 3 a 1. La società ha deciso di accettare le dimissioni del coach e lo ringrazia pubblicamente per il lavoro svolto in questo percorso con la maglia bianco-verde. Ed ora siamo agli appuntamenti sportivi e su ETV Marche come ogni giovedì alle 21.20 torna Sogno Anconetano con il focus sulle squadre che appartengono al Consorzio Ancon. Sentiamo le anticipazioni da Fabio Lo Savio. Grazie della linea, tutto pronto per l'appuntamento di questa sera con Sogno Anconetano. Parleremo di pallacanestro femminile, avremo Giulia Perdicca che è il capitano della Basket Girl, ma parleremo anche di sport davvero a 360 gradi, perché avremo il presidente del Conimar che è Fabio Luna, con il quale parleremo del presente e del futuro dello sport marchigiano e italiano, visto la recente riforma che riguarda proprio la gestione dello sport. Quindi tantissimi argomenti questa sera che si sommeranno ovviamente a tutto quanto accade anche alle altre società che fanno parte del Consorzio Ancon. Quindi, come detto, appuntamento 21.20 circa ETV per Sogno Anconetano. Non mancate! E noi invece ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti!